Io vengo da un buco di paese che neanche se l'immagina. Nessuno con cui parlare d'arte. Nessuno che ti capisca. E adesso invece eccomi qua a Roma. Sì, a Roma. Via Margutta. A loro forse queste cose non le apprezzano più perché ci sono abituati. Ma per me, per me, è come se fossi arrivato... E che ne so, in paradiso. Guarda, se non ci sei te nel documentario di Via Margutta, che documentario è? Ma che fai adesso? Fai pure il regista. Insomma, posso sapere qualche cosa? Andiamo dal maresciallo? No, prima il riconoscimento. Il riconoscimento? Silenzio. Avanti. Ma io... Bill! Marco, ma io non ci capisco niente. Che tristezza. Perché? Hai riuscito ad ottenere quello che voleva? O sono tutti capaci come lui? Ma non diciamo sciocchezze. Tra un mese o due ce lo ritroviamo qui col foglio di via. Ho girato il mondo da solo io. Non sono mai stato incollato come voi lì in via Margutta. E non ho bisogno della vostra compagnia perché non mi manca niente. C'ho i soldi, i macchini americani, poi c'ho anche Greta. Guarda un po'. No, ma va. Il signor Marco la prega di andar via. Ha sulla fidanzata. Eh, lo so. È una vergogna pure per me dove fa sempre sta parte. Ma che vuole? Quando uno ha la maniera delle donne non si salva più. Ma chi è qua? La pittura, gli astratti, la gloria. A me. Io darei in cambio la cappella a Sistina per una cucina elettrica. Guarda un po'. Guarda un popolo. Guarda un po' di fronte. Guarda un po' di fronte. Andaloische ETC. E tempo a problemi. Guarda un po' di fronte. Grazie a tutti.